Eccoci, il nostro villaggetto, l'acqua è bellissima Sparcati, Laura com'è? Prima impressione? Arrivati, si vede dal sorriso, questo è proprio qua Gabriele, guarda, il posto è spettacolare Gabriele è già senza cazzettine No, è spettacolare, sembrava in una foresta Siamo arrivati, non sembra vero Wow, il primo impatto è sempre quello che conta Quel pescione vicino a Gabriele Oggi, primo giorno qui all'isola Alimatà Il posto è favoloso Qua c'è un tramonto incredibile E qua un bel pellicano Che si sta perdendo il tramonto Il posto è bellissimo Bellissimo Il posto è un tramonto Il posto è un tramonto No, 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 no. Questa è la vista della nostra cameretta, qui faremo un bel video dedicato alla stanza. Beach bungalow, adesso il sole se ne è andato. Qui è tutto sulla sabbia, questo è il bar, dopo ci andiamo a fare un bel corte, qua c'è il mare e là c'è il pontiretto. Tutto rigorosamente sabbia, non servono neanche le scarpe. Spettacolare, non c'è altro da dire. Ecco qua un po' di pesciolini. Non so se capisce ma sono, eh? C'è lo squaletto, qua c'è un piccolo squaletto. E qua ci sono le mante. Che grandi che sono! No, no, no. Bellissimo! Che belli! Ma stiamo facendo! No, impressionante! Questo è il bar. Grazie! Un po' il cocktail adesso. Un barretto. Chiaro bar. Tra poco ce ne andiamo a Nana. Questo è il mare di notte. che ci culla nel nostro sonno. Bellissimo! Eccoci qua colazione. Crepe. Pane. Vista mare. Questo è il ristorante. La nostra prima colazione sull'isola. Nel ristorante noi facciamo un saltino. Noi siamo in cameretta. La nostra. Eccoci qua. La nostra stanza. A 104. Qua c'è il nostro vicino di casa. Ciao vicino! Ring, ring, ring. Chi abita qua da noi. Sì, bravo. No, vicino a noi. Questa è la nostra cameretta. Ecco, lasciamo. Occhi, passi. E siamo in acqua. Quest'isola deserta. La sabbia è pazzesca, c'è un pesce. La sabbia è una cosa bellissima, il grandietto c'è, abbiamo detto che c'era un altro buco. La sabbia è pazzesca, c'è un pesce. La sabbia è pazzesca, c'è un pesce. Eccoci a pranzo, il posto è sempre pazzesco. Il cibo è molto buono, per ora sembra abbastanza variegato. Eccoci qua, oggi prima giornata di mare, bellissimo, ho fatto un sacco di video sott'acqua, poi gli andremo a vedere, vediamo come sono usciti. Ho visto qualche squalo, qualche squalo nutrice e qualche pina nera, piccolino, più tutti i pesci tropicali che si trovano in questa zona. e ora mangiamo. Questa è la piscina, sempre con un paesaggio incredibile alle spalle e dietro il mare. bellissimo chiaramente. Questi sono i colori, la tua trasparenza incredibile. a presto. 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 a presto.